Bella a tutti ragazzi, bentornati su The Zucca Show, scusate se sono senza maglia ma qua veramente si muore dal caldo, infatti ho l'aria condizionata, il ventilatore l'ha puntato che sono pronto a mettermelo addosso, sono anche capelli tutti scompigliati ma come al solito come potete vedere, comunque oggi siamo qui per farvi vedere i video acquisti che ho fatto questa settimana, tutti i fumetti che ho comprato questa settimana e sono veramente tanti e ho intenzione di portare questa rubrica da adesso in poi e portare ogni settimana tutti gli acquisti che faccio settimanalmente sono stato in fumetteria proprio oggi e ho fatto tanti acquisti, ho fatto anche qualche acquisto in libreria partiamo dai manga che ho comprato, stranamente sono un po' di meno perché come ho detto mi sto sempre di più appassionando oltre che ai manga ovviamente che sono la mia tipologia di fumetto con cui ho iniziato quindi quella che prediligo, mi sto sempre di più appassionando anche al fumetto occidentale quindi ci vedrete anche molti fumetti occidentali in questo video anche se ancora ritengo di avere veramente pochi in collezione non vedo veramente l'ora di aggiungerne di più alla mia vasta collezione perché mi stanno appassionando veramente tanto hanno uno stile di disegno diverso dai manga che mi affascina veramente molto comunque partiamo dai manga, abbiamo Claymore numero 20 che stavo aspettando da tanto perché adoro veramente un sacco questa serie vediamo come va avanti poi abbiamo l'ultimo numero di Noragami, il 27 è uno shonen discreto nulla di più, nulla di meno adesso devo leggere questo ultimo numero per vedere come sarà il finale vediamo e qui parte un carico da 90 ho preso il Megabox di Tutomoniei uscito da pochissimo con dentro l'opera se riesco a tirarlo su Biomega e Avara al prezzo di totale 72 euro io ovviamente ho lo scolto del 5% nella mia fumetteria io amo Tutomoniei con tutto me stesso Blame è uno dei miei fumetti preferiti non vedo l'ora di leggermi queste altre sue opere di Niai sono proprio contento che le hanno reso giustizia con questa fantastica edizione in questo fantastico cofanetto che vi faccio vedere un po' meglio no non si può così così veramente veramente bellissimo veramente bellissima anche l'edizione come si può vedere poi andiamo avanti ho preso avevo tutta la serie di Descender quindi mi mancava il suo sequel e ho preso i 4 volumi usciti finora ovvero del suo sequel ovvero Ascender numero 1 è l'1 questo sì Ascender numero 1 Ascender numero 2 Ascender numero 3 Ascender numero 4 ognuno ha il prezzo di 18 euro l'uno a parte il 3 che è di 17 non so perché forse è un po' di pagine in meno sì mi sembra un po' meno cicciotto non vedo l'ora di leggerli poi passiamo a un altro pezzo da 90 che vi ho già fatto vedere sul canale che ho preso questa settimana ovvero L'Eternauta questo l'ho preso in libreria mi è stato descritto come uno dei più grandi capolavori della fantascienza non solo a fumetti ma proprio della fantascienza in generale non vedo veramente l'ora di immergermi in questa lettura poi abbiamo un fumetto di cui volevo prendermi qualcosa di occidentale mi sono imbattuto in questo fumetto in libreria non ne conoscevo niente però l'ho aperto ho detto wow che fighi i disegni sono veramente una figata poi ho letto dietro la trama ho detto wow che figa questa trama poi ho letto anche che è stato premiato comunque ho avuto un buon resoconto dalla critica quindi ho deciso di prenderlo ovvero sto parlando di Blue and Green devo ancora leggerlo e non vedo l'ora e per finire abbiamo la ristampo riedizione che stanno facendo di Sim City di Frank Miller che è uscito il primo numero che sono tutte storie da qualche ho capito separate però ambientate nella stessa città e niente questo era tutto per gli acquisti di questa settimana ci vediamo a un prossimo video da The Zucca Show ciao a tutti